oh chi vi vedo chi ti vedo guarda che vi vedo c'è la grande attrice ma non ti ripeto è solo la parte alta non ti preoccupare allora come andiamo la vacanza come va signora la favola succede l'ultimo giorno che io sto qui e voi sono tutti gli altri giorni che state là brava il scorvo che ammazza alla mia signora che si sta rilassando alla faccia della seconda chirurgica hai capito? ecco tanto pubblico dopo te sentono allora caro Massimo com'è sta vacanza? anzi diciamo che è quasi finita purtroppo sta vacanza ponge anche per dire perché domani mattina si riparte però è stata una settimana spettacolare è bella ragazzi se volete venire in questo splendido complesso e passare una bella vacanza non fate altro che contattarmi giusto? esattamente me contattate e passate pure con una bellissima vacanza cari ragazzi tutti gli amici che vogliono venire il problema è risolto il problema è risolto ragazzi dopo questo fatto vi lascio le immagini e ci vediamo alla prossima alla barbare alla barbare ma